E' un dono. Noi stiamo donando a questo pacco, da cui riceviamo tantissimo, attraverso il vento di suono. Cioè quando noi lo appenderemo non lo sentiremo suonare, saranno fermi. A te fa più male. Cos'è? Anima. Anime. Anime. Le anime, sapete che cosa sono? Quei personaggini? No, le anime, in realtà si, saranno anche tante serie, però quello che intendo dire, la parola anima è respiro, è il respiro, è l'animazione del corpo attraverso il respiro, anima. Cioè siamo noi l'anima. Siamo noi, è il nostro respiro. L'anima è il nostro respiro, quindi è anche il nostro suono, perché la vita parte attraverso un suono. E' bellissimo. Ma noi siamo tutti l'unico po' in questo momento. Tu e Jesse, se il tuo nome, quando Elena sarà a casa e verrà le foglie a muoversi dal vento, Anche la campanella di Elena si muoverà ed Elena suonerà. Ma quindi ma c'è una pianeta? Un pianeta. Cioè, Marta è una santa, è una santa importantissima. Ecco, lei che fa l'accoglienza a casa. È straimportante. Marta è la protettrice degli albergatori. Tu quando vieni in un albergo, la parrona dell'albergo è Marta. Perché è lei che ospita. È importante come noi. Marta! Guarda, sì, sono io la sua nata, ma non si vede a me ci vuole. Sì, perché ti metto. Sì, ma... 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 Grazie a tutti.